La politica condanna unanime l'invio di proiettili al ministro della giustizia Paola Severino e al sindaco di Roma Gianni Alemanno. Il testo che accompagnava i plichi intercettati è firmato da un nucleo delle nuove BR. Appena pochi giorni fa, le rivendicazioni anarchiche per il pacco bomba Equitalia e alla Deutsche Bank.